Gentili telespettatori, buona giornata e torna Giuseppe Piero detto Beppe Grillo. Sapete che a sinistra piacciono i soprannomi, Nicola Andrea detto Nichi Vendola e poi c'era l'altra, Rosaria detta Rosi Bindi, Giuseppe Piero detto Beppe e così Grillo, cioè Giuseppe Piero detto Beppe, a Ferragosto dice che Lozio, un atto politico, liberarsi dalle catene del dovere. A lui piace assumere questa cosa del filosofo, dell'ideologo e così Beppe Grillo, il capo comico del Movimento 5 Stelle, dato che sta duellando con Giuseppe Conte e probabilmente potrebbe anche perdere quei 300.000 euro all'anno che il Movimento gli passa che non si sa bene per fare che cosa, e dice che Ferragosto è un giorno che si apre come una parentesi in un calendario troppo pieno, una pausa necessaria, in un mondo che corre inesorabile, in un'epoca in cui la produttività è diventata il metro di misura del valore umano. Lozio si erge come un atto di resistenza, un gesto di ribellione contro l'imposizione di un ritmo di vita che non ci appartiene più. Caro Giuseppe Piero detto Beppe, Lozio oggi è la vera ricchezza. Parliamoci chiaro, oggi non è avere più soldi possibile, è avere più tempo possibile. Oggi la vera ricchezza è avere il tempo libero, il tempo libero è la ricchezza. Ricordo che in un'intervista a un super ricco pakistano, super super ricco, gente che ha migliaia di milioni di euro, quindi miliardi, e l'intervistatore lo segue e dice, mentre sono sul jet privato, chiede a questo super ricco, scusi ma questo jet costa? E lui dice, eh sì, devi assumere l'equipaggio a tempo pieno, quindi quelli sono tuoi dipendenti a tempo pieno, e poi la manutenzione del jet è costosissima, e poi devi pagare il parcheggio nell'aeroporto, è un costo enorme. E l'intervistatore dice, ma ne vale la pena? Davvero ne vale la pena spendere tutti questi soldi per andare in aereo da solo? Invece negli aeroporti vedi gente, vedi confusione, c'è il ritardo, sei sull'aereo insieme ad altra gente, cioè ne vale la pena spendere tutti questi soldi per poi essere anche da soli e partire da una zona dell'aeroporto solo per i VIP, col jet privato dove non c'è coda, non c'è ritardo, non c'è nulla, tu arrivi, ti siedi dieci minuti, il tempo che accendono i motori è party. E la risposta è stata questa, che lascia da pensare. Dice guardi che ne vale la pena perché io con il jet risparmio tantissimo tempo, il tempo è denaro, il tempo è libertà, io con il jet privato ho più tempo da dedicare, non al viaggio, che è una perdita di tempo, ma tempo da dedicare ad altro che può essere la vita privata o nuovi obiettivi di lavoro. Quindi il jet che all'intervistatore poteva sembrare un lusso perché c'è la pelle, quelle cose lì, dice guardi che a queste cose ci si fa l'abitudine, alla terza volta che prendi il jet privato non ti fa né caldo né freddo. Però io risparmio tantissimo tempo, oggi il valore dei soldi si basa sul tempo che tu hai libero, o il tempo che tu dedichi magari al lavoro che tu non reputi un lavoro, perché per esempio questo magnate ricchissimo dice il mio hobby è il lavoro, per me non è un lavoro, è un hobby, cioè io lo faccio divertendomi, per me non è un lavoro, quindi il jet mi serve per risparmiare tempo, per dedicarmi di più al mio hobby che il mio lavoro. Quello che dice Beppe Grillo, l'ozio, il mondo corre inesurabile, non ci appartiene più, l'ozio si erge come un atto di resistenza, un gesto di ribellione, contro un ritmo di vita che non ci appartiene più. E l'ozio può essere una ribellione per chi ha i soldi. Se Beppe Grillo si prende 300 mila euro dal Movimento 5 Stelle per non fare, per fare non si sa che cosa, allora lui prendendo 800 euro al giorno per tutti i giorni dell'anno, può ribellarsi a questa vita frenetica e può oziare tutto il giorno. Lui può oziare, che è il bene più prezioso, il tempo libero, proprio perché c'è il movimento che gli passa sti soldi. Quindi l'ozio è un qualcosa che non è alla portata di tutti. Per avere tempo per oziare, il dolce far nulla, devi avere delle disponibilità economiche o delle rendite che te lo permettono. Se no ti devi alzare alle 4 e 45 la mattina, fare magari 100 chilometri a piedi, l'autobus, il treno, la metropolitana, per andare a lavorare e affittare il tuo tempo a qualcuno e dopo rifare tutto il viaggio al contrario per tornare a casa dopo che la tua giornata si è annullata per affittare il tuo tempo a qualcuno che te lo paga con dei soldi. Perché tu quando lavori affitti il tuo tempo, stai affittando il tuo tempo. Quindi poi anche se tu affitti quel tuo tempo dal lunedì al venerdì, che la tua settimana ti annulla e ti danno anche 5.000 euro, quei 5.000 euro secondo voi valgono il fatto di aver lavorato dal lunedì al venerdì annullando la vostra vita? Che si riduce al sabato e domenica? Cioè la vostra vita con quei 5.000 euro si riduce a 8 giorni al mese? Perché il resto è affittato a qualcuno? Ecco, quindi caro Grillo, per poter usufruire dell'ozio servono i soldi. Quindi l'ozio è la vera ricchezza oggi. Come diceva anche il magnate pakistano. Ricchissimo, straricco, ma molto intelligente. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, l'ultimo poi della giornata. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete e poi la pagina in Facebook che si chiama Luca Vincitore. Arrivederci e buona giornata a tutti.